Ciao a tutti ragazzi, io mi chiamo Leonardo e benvenuti su Leo Toys Oggi facciamo una tattoo challenge Guardate qui quanti tatuaggi che ho Li trovate tutti in edicola E faremo un tatuaggio a nonna di, nonno di, mamma di, forse papi di e ovviamente me E ne facciamo anche una frollo che è qui No, io non lo voglio fare il tatuaggio In ogni bustina trovate 6 tatuaggi Questo qui io mi voglio fare, io voglio fare questo qua perché è bello Oh mio tifo, che carino Guardate sono 6 E sono tutti divisi in categorie Pirati Predatori Draghi Oceano Bende Simboli Animali Natura Unicorni Migliori amici Gioielli E braccialetti Ah e ragazzi io qui adesso con me non ce l'ho Chiedete all'edicolante anche la rivista che si chiama Toys One Kids Con la quale sono abbinati i tatuaggi E io adesso infatti ve lo faccio subito Dividete a metà i tatuaggi, nel senso così li staccate perché è segattato al centro e beh scegliete il posto il tatuaggio Poi vi bagnate il braccio Il braccio, ok Io prima qui ne avevo un altro Me lo sono tolto per fare questo video E Io metto il quadrifoglio perché sono molto fortunato Poi bagnate sopra Poi aspettate qualche secondo E tirate fuori Ma quanto è bello Quanto è bello E visto che io avevo già provato e ne avevo già fatto uno Durano veramente tantissimo Ragazzi io ho già aperto un pochino di bustine Guardate quanto sono belli I miei preferiti sono tipo questo qui Guardate Questi due Anche se qui c'è di lì in due Però è uno intero E c'è questo Che si legge al contrario Guardate poi c'è questo qui con il film Con il delfino Con lo scuolo Che sono molto carini Guarda Leo C'è un unicorno Una rosa Un serpente Come me Poi c'è un drago Che tu sembri più un drago Che un serpente Io sono un serpente Sei un drago No Sì No io non sputo fuoco Ah giusto Non hai neanche i denti Non hai i denti però Se è morto Faccio molto male Non è vero Voglio 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 Non mi fai niente Mamma mia Adesso ragazzi Tutti questi tatuaggi Li giriamo E gliene facciamo scegliere Uno al nonno E uno alla nonna E li tatuiamo Uno al nonno 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 Scegli un po' Devo scegliere io? Sì Eccolo qua Lo posso vedere? Sì Ah è quello che volevo L'ancolo È proprio quello che volevo Io l'ho fatto in marinaio Quindi mi sta bene questo Sta bene E non hai peli Un po' di energia nonno Cos'è quello che fai? Ma chi ti ha invitato A te chi ti ha invitato? Lui Non è vero bugiardo Non ti volevo mai invitare In questo video Allontanati Che bel marinaio E quanto costa Questi tatuaggi? Un euro e 99 a bustino Nonna Scegne uno Speriamo che mi viene Quello che ho visto Prima che c'era Uno che mi piaceva tanto Ci so Speriamo Speriamo Non lo sa qual è Secondo me ti esce il serpente Prendo questo Una pantera La nonna panterosa Quale scegli tra i due? La pantera Pensi la pantera? No Lascia stare a frollo Allora questo qua Ecco Volevo la pantera Nonna lo fai qui? No no Questo è un braccialetto Ah è un braccialetto? Non lo facciamo mai Aspetta Sotto Un braccialetto Guarda che noi devi fare la doccia Mangiamo un pochetto Un po' tanto Vai vai Sto facendo la doccia Da nonna Sì Mi riempisco che fa caldo L'estate Sì Carino Non ti sta male Carino Bello Mi piace È bello Sì Che bella nonna che hai Mamma Mamma Sì Prendi uno Allora Questo Spero male Spero male Aiuto Lo facciamo a papidì Lo sacchiotto Ok Coniglietto Va bene Che carino Mi sto facendo Un delfino Quanto è carino Quanto è carino Quanto è carino Adesso mi faccio Questo qui Io voglio fare Questo qui È venuto benissimo Ragazzi Visto che ne ho fatti Due da questo braccio Ne faccio due da quest'altro Ok E questa volta Ho scelto Da ecco baleno Eccoci qui Allora ragazzi Che dite Vi sono piaciuti Questi tattoo Beh Se siete arrivati A questo punto Del video Ho qualcosa C'è da fare Per voi I primi Che mi manderanno Un messaggio Su Instagram I primi Quattro Vi manderò Una bustina Di questi tattoo Il mio profilo Il mio profilo Instagram È leotois2008 Per tutti gli altri Invece Vi potete trovare In edicola E ragazzi Spero tanto Che questo video Vi sia piaciuto Mi piaciuto Se vi è piaciuto Il video Iscrivetevi al mio canale Ciao ciao Da Leonardo Nono di Nonna di Mamma di E mea Ciao E ci sono anche io Ciao ciao Mamma di